Ianes, partita con il Ponte d'Era, dei Tauteri in conferenza, non possiamo più pensare a giocare bene, male, dobbiamo vincere? No, sicuramente dobbiamo pensare a vincere, meglio si è giocando bene, però mancano cinque partite, dobbiamo fare la più quantità di punti possibile. Senza Ingrosso, senza Drudi, toccherà a te con Gerardi comandare la difesa, siete contati, però sicuramente ci sono tante garanzie. Sì, sarà una scelta sicuramente che dovrà fare il mister, chi giocherà domani, però mi sa che in questo periodo abbiamo dimostrato che siamo tutti all'altezza, siamo tutti in un buon momento, quindi entra uno, esce un altro, però tutti danno il massimo. Soprattutto Ianes nell'ultimo periodo ha dimostrato di stare molto bene. Grazie, è una cosa che cerco niente, fare il mio, aiutare la squadra, dare una mano e in questo periodo è più facile, perché come ti ho detto le squadre stanno andando bene, stiamo giocando bene, quindi è tutto più facile. Obiettivo terzo posto? Sì, quello è il nostro oggettivo, lo dobbiamo raggiungere per forza. Ti chiedo una cosa per chiudere, anzi ne approfitto con il sorriso, perché Pontisso, ai nostri microfoni, ha detto che quando giochiamo a Briscola Ianes pensa di essere bravo, ma in realtà non è bravo. Sì, va bene. Abbiamo imparato poco tempo fa con Ferrari, la verità è che sì, sto un po' sotto a livello degli altri, però piano piano vediamo se riesco a raggiungere l'oro. Grazie. Grazie. Grazie.